Diamo il benvenuto al Raiffeisen Experience Tour autunnale a Mark Monson, Senior Fund Manager del team Emerging Market di Raiffeisen Capital Management e cerchiamo quest'oggi insieme a lui di capire quelle che sono state le recenti dinamiche dei mercati, soprattutto per i mercati emergenti. Bene Mark, a tal proposito la prima domanda non può che essere riferita alla Cina, quello che è successo soprattutto negli ultimi mesi sui mercati. Qual è la tua opinione in merito? Grazie Simona. Guardando un po' i mercati in generale abbiamo, sul livello anche globale, una debolezza totale, diciamo negli Stati Uniti, Europa, l'Asia, Giappone, eccetera, eccetera. Ci sono diversi fattori comunque, se vediamo quando il Fed aumenterebbe il tasso di interesse l'orolo più forte, diciamo, in materia prima che vediamo che è ancora in cantina. Però sembra che tutti puntano sul livello dinamico di crescita della Cina o diciamo mancanza di dinamica di crescita economica della Cina. Interessante è che infatti Cina economicamente sta rallentando, ma non è niente di nuovo. E da anni il livello di crescita della Cina sta diminuendo pian piano, pian piano, pian piano. Però comunque la Cina, essendo la seconda più grande economia nel mondo, qualsiasi tipo di rallentamento, diciamo, si vede nella loro economia ha un impatto sul livello anche globale. Comunque non credo che tutto il corpo della debolezza del mercato globale partiene alla Cina, però nello stesso momento non voglio sottovalutare l'impatto di Cina, la sua grandezza, il suo impatto potrebbe avere ancora sul livello di diminuzione di crescita economica. Ma il fatto è che la Cina sta facendo una trasformazione, una trasformazione di un'economia basata sulle manufatture a bassi costi e sulle esportazioni e sta facendo una transizione verso un'economia domestica, un'economia che provvede anche agli servizi finanziari e altre cose, il benessere del popolo, il consumo sta prendendo sempre più in piano. Ma comunque questa fase di crescita, questa fase di trasferimento di un tipo di economia, possiamo anche dire il vecchio economia, alla nuova economia che è più consumo orientato, ci sarà un periodo di trasformazione che potrebbe durare anche anni e questo tipo di trasformazione porta sempre a un bilanciamento economico, è quello che stiamo vedendo proprio sui mercati. Come lo vede anche Beijing in questo senso? Beijing o Pechino vede che questo tipo di dolore economico che vediamo attualmente è il prezzo da pagare a trasformare e reinventare l'economia cinese che sta andando avanti. La differenza è che è ben conoscente di questi tipi di cambiamenti, quelli che devono fare Beijing e sono disposti e anche hanno i mezzi di poter anche modificare e anche anticipare dei stimoli necessari di mantenere almeno un certo livello di crescita che potrebbe andare bene per tutti, diciamo, di mantenere un certo livello di equilibrio. Ma a questo punto ritengo che è sempre importante di capire che questa fase di trasferimento dall'economia passata su manufatture verso i servizi finanziari e anche consumo interno è un processo che ci vuole anni e di non anticipare che questo diventerà una cosa da un giorno all'altro. E quello che devo dire ai investitori che guardano questa zona è che questo trasformamento dell'economia cinese di avere pazienza e le aspettative più giuste, perché quando noi pretendiamo troppo dall'inizio e poi ci vuole il più tempo possibile, questo ci dà la delusione e poi di conseguenza le reazioni sul mercato succedono. Bene Mark, emerge già in modo chiaro dalla tua prima risposta che nei prossimi mesi e anni ci attendiamo a un rallentamento dell'economia cinese, ma vorrei capire da te che impatti ci dovremmo aspettare a livello globale sui mercati e le economie di paesi sviluppati e paesi emergenti. Buona domanda, grazie. Infatti quello che stiamo vedendo nella Cina attualmente è il sviluppo di due economie, la vecchia economia più collegata con la materia prima e proprio l'industria di base e con il secondo, diciamo, il downstream economia che offre i servizi di consumo, eccetera, eccetera. Da un parte, diciamo, quella da parte della materia prima e le principali industrie, diciamo, dell'economia sta rallentando e ovviamente quei paesi collegati con l'importazione e l'esportazione di materia prima saranno più magari colpite di quella che offrono dei servizi sia finanziario o dell'atto consumo della Cina. In questo trapasso bisogna essere molto ben chiaro che lo stesso, diciamo, le regole del gioco, quelle che è successo negli ultimi 15-20 anni della Cina, non sarà più uguale andando fuori. Ci sarà un cambiamento, un cambiamento diverso. Ma non guardando soltanto l'economia interna, ma la Cina investe anche fuori dalla Cina in altri paesi, sia gli Stati Uniti, l'Europa, anche i mercati emergenti. L'impatto sul mercato emergente è molto più forte, diciamo, perché la quantità più piccola ha un impatto sull'economia molto più piccola. Ma l'idea è questa, l'economia cinese non è stagnante, cresce, cresce a livello nominativo molto interessante, ma sta cercando di fare questo trapasso. Adesso il trucco veramente importante di capire è come collegarsi con la nuova economia che diventerà sempre più importante come andiamo avanti. Bene, Mark, quindi la fatidica domanda, in previsione a quello che è stato appena detto, qual è l'arma vincente per investire oggi nei mercati emergenti? Questa è veramente la domanda di milioni di euro. Il problema è che quando guardiamo, diciamo, l'asset class di investire specialmente nell'azionario, spesso il mercato emergente venga tutto mucchiato insieme come un asset class. Abbiamo l'America, l'Europa, il Giappone, l'Asia e i mercati emergenti. Il problema è che i mercati emergenti non sono tutti uguali. Mi ha fatto ricordare una storiera una volta che guardavo un po' il TV e quando questa commettitrice che diceva che quando chiedeva del mercato emergente qualcuno dice che sì, però sono positivo e lei subito pensando, riferimento ai prezzi di materia prima che sta scendendo, dicendo, oh no, diciamo, ma i prezzi di materia prima scendono per emerging markets, questo va male. Mi sono reso conto che è spagliato quel tipo di discorso. Alcuni mercati emergenti soffrono, alcuni beneficiano. Non si può generalizzare che cos'è un mercato emergente. In realtà i mercati emergenti sono quelli che stanno emergendo. Loro stanno cercando di andare da qui, di qua, il più veloce possibile. E la differenza tra i mercati emergenti non è soltanto il livello di crescita, ma come stanno sviluppando. Ogni paese ha il suo dinamico, ogni paese ha il suo modo di riflettere, di fare, cercando di fare questo modo di sviluppo. E non si può mettere tutto insieme, dentro un coltrone e poi dopo girare insieme, ecco, emerging markets. Perché quando si fa una cosa del genere ci sono i vincitori, ci sono quelli che non vincono o hanno più difficoltà. Per noi è più importante, quando parliamo di come investiamo nel mercato emergente, è di selezionare proprio quei paesi che hanno veramente un mandato di cambiamento, un mandato, diciamo, hanno bilanci sani, hanno un governo dedicato, hanno un programma di riforme strutturale, anche sociale, anche economico, che permetterebbe loro di andare avanti al loro sviluppo. E perché dico questo è più importante? Perché in realtà il loro sviluppo come indipendente ha una durata molto più lunga di un ciclo economico, se la Cina cresce o no, se l'America cresce o no. Perché questo tipo di strutture che fanno, quando lo mettono insieme, non può essere tolto. Una volta che il moto di reazione, di cambiare, di modificare, di andare avanti, è in moto, è lì. Allora bisogna trovare quei paesi che hanno capacità di crescere, di andare e di non soltanto liberare economicamente, ma sociale e riforme, eccetera, eccetera. Con questa idea, con questo concetto di guardare i propri migliori mercati emergenti, abbiamo creato il fondo Eurasia Equities Fund, che è proprio dedicato specificamente a trovare quei leaders, diciamo, del mercato emergente, che loro hanno questa possibilità di influenzare non soltanto il mondo, ma anche la loro regione, e che sono proprio quelli più dinamici nel mercato emergente, lasciando indietro quelli che sono più influenzati dal sistema globale. Qui sono quei paesi che influiscono. E questo è un fondo che abbiamo a più di 15 anni, con un formidabile track record, gestito da esperti di mercati, che conoscono bene a profondo la loro regione, i loro mercati. Bene, Mark, ti ringraziamo per essere stato con noi al LifeEyes and Experience Tour e ti aspettiamo al prossimo appuntamento. Grazie a voi.